Buongiorno a tutti, sono Francesco Balasso. Prima di tutto volevo ringraziare l'organizzazione, la segreteria e la giuria del premio Bologna in lettere per l'apprezzamento e la fiducia data alla mia raccolta l'altra ora. Volevo leggere due poesie tratte appunto da questa raccolta. La prima ha come titolo Astronauti. E' come posare i gomiti sul davanzale e abbellire i pensieri coi fiori, tu con quella coda di luce sull'estremo ciglio in profil perdu, quasi a cadermi dritta in sogni gervisti, come i raggi esplosi a frittata dietro l'enorme pallone della Terra. Io, un piccolo astronauta che ride di paura, aggrappato a ciò che resta del cielo e agli ultimi respiri della gravità. E leggo la prossima poesia. Stanotte come ti muovi è lì lo spaccato grigio sulle strade, ma è solo l'inizio della pioggia e delle foglie per terra d'estate. L'insegna dei sali e tabacchi sopravvive per che cosa? È la luce incollata al buio e tu lo vedi che rimane l'assenza. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.